Ah buongiorno a tutti, no non odiatemi, la location è esattamente bella così come la state immaginando, velocissimissima toccata e fuga ad Ischia con il mio amico caro Leonardo Sasso al quale chiedo Ischia, ma dove di preciso caro Leo? Questa volta non sei venuto all'Hotel Parco Aurora, siamo all'Hotel San Giovanni in pieno centro di Ischia ma è immersa in una bellissima pineta tipica della nostra natura, della natura isolana è una location diversa rispetto al solito dove si è venuto, però mi pare che abbia potuto gradire anche l'Hotel San Giovanni e le sue atmosfere un po' più soft rispetto a quelle del Parco Aurora. Eh sì, momenti riservati, sereni, sobri, con insomma tanti servizi per il pubblico, no? Sì, abbiamo un albergo che è piccolo, 90 posti, però abbiamo un centro termale all'interno molto carino, un bellissimo servizio in piscina, una piscina poi che è enorme e sempre i soldi servizi che offriamo come gruppo, con la spiaggia inclusa, ma il grosso e il bello è la pineta, il giardino, il parco dove è immerso questo edificio che è data una quarantina d'anni, ristrutturato anche recentemente. È un ambiente particolare per le vacanze. Allora, caro Leo, dopo la trasferta di Torino e prima della partita con la Salernitana, si va a chiudere questa nostra stagione. Io utilizzo un po' la pazienza di Leonardo Sasso per ripercorrere quella che è stata una stagione obiettivamente pazzesca, in cui la mia speranza è che tutto quello che ci poteva succedere in una stagione ci sia successo quest'anno. Questa è la mia speranza, perché ad esempio vinciamo a Bologna, nessuno capiva Bologna-Milan 0-2 quanto fosse importante quella partita, poi battiamo il Torino 4-1 e Iuric alla fine, nostra storica bestia nera, dice non c'è stata partita col Milan. Poi andiamo a Roma per 45 minuti, insegniamo calcio e a un certo punto, prima del derby, l'espulsione di Tomori. Io penso che la stagione ci abbia dato il buongiorno su quell'espulsione di Tomori, Leo. Quella è una parte che è stato soltanto il presagio, però poi dopo ce la siamo anche un po' complicata noi, perché a mio modo di vedere, sì, ci siamo stati sfortunati per i tanti incidenti che ci sono capitati proprio a cavallo di fine settembre, ottobre, novembre. Abbiamo perso due o tre occasioni, secondo me, clamorose che potevano invertire la stagione. La prima è stata la partita con la Juventus in casa, un'altra è stata sicuramente la partita con il Borussia, quando magari avremmo potuto... Ci arriviamo, ci arriviamo. Tu dici per la parte, quindi parliamo di campionato adesso. Ci arriviamo. E poi le numerose partite col doppio vantaggio che non abbiamo avuto. Esatto. Lecce, Napoli, non esistono partite che il Milan ha in passato sul 2-0, Napoli era già successo una volta, però diciamo, quest'anno... Non solo sul 2-0, ma potevamo fare il terzo sia Napoli che Legge. Il terzo, più volte lì è svoltata la stagione, perché perdi punti quali... Perché poi non ci dimentichiamo, noi a un dato momento, prima della sosta della Juventus eravamo in testa alla classifica... Prima della metà ottobre il Milan era, primo da solo con due punti vantaggio sull'Inter, esattamente. Io se penso a questa stagione, sono partito dall'espulsione non a caso, è stata proprio una stagione di espulsioni, di... come dici tu... Adesso tu vuoi farmi dire cose... No, 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 assolutamente no, non parlo di questioni arbitrali, no, 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 sono proprio tranquillo e sereno. Cioè, ecco, probabilmente espulsioni perché le nostre partite sono sempre state, spesso state, soprattutto in trasferta, un po' in disequilibrio, e quando sei in disequilibrio rischi, rischi l'intervento, rischi la giocata, forzi, succedono cose che non governi e viene espulso. È vero. Ho provato a immaginare questa cosa, perché anche Lecce dice, eh ma Lecce Giroux è stato espulso per nervosismo. Sì, viene espulso per nervosismo perché da 2 a 0 sei stato tramontato fino a 2 a 2 e anche questo c'entra con gli up and down delle nostre trasferte. E poi alcune espulsioni le abbiamo prese proprio perché magari per un atteggiamento tattico che ci ha messo in inferiorità numeriche in alcuni momenti della partita il difensore è andato in difficoltà, penso per esempio all'espulsione contro la Juventus di Malicciao, sull'intervento su Kenna. Sono delle cose che a un certo momento comunque hanno segnato la stagione, perché poi in quel momento l'Inter ha preso fiducia. Noi ci siamo rintanati in polemiche e vuoi contro i preparatori, parlo non della società, parlo dei tifosi, quindi che i tifosi comunque alla fine un po' l'ambiente lo condizionano, intendiamoci, il Pioli Out è tornato di nuovo. In una grande piazza però è normale. È normale, è normale, però è anche vero che ci hanno un attimino, anche quello hanno contribuito in un momento, in una fase della stagione a dare la stura a tutto quello che sono e conseguito. Degli infortuni se ne è come stavi giustamente dicendo tu ampiamente parlato, però le espulsioni, sai, tu, momento top, Tomori non ce l'hai con l'Inter e hai fuori l'altro difensore veloce, Calulo. Eh, ma quello perché... Poi probabilmente avresti perso lo stesso, non lo so, però intanto non ce l'hai. Poi arriva la sosta, sei primo, ma viene espulso Mignano. E il problema degli infortuni è che si sono sommati alle espulsioni. E si infortuna a Sportiella, giochi con Mirante a terzo portiere, con la Juventus viene espulso Malik Chao. Cioè, è veramente una stagione in cui... Segnata, segnata. E poi segnata, perché? Perché magari tutto questo ha inciso sempre sullo stesso reparto. Noi abbiamo avuto un dato momento che non avevamo più difensori centrali, un dato momento che avevamo problemi enormi, problemi enormi che hanno fatto questo. Però intendiamoci, io ripensando poi alla stagione, vedi, ci sono dei momenti che dovrebbero farci riflettere serenamente, ora che va finendo, su quello che sarà il futuro. È evidente che magari ci sarà un cambio di guida, non lo so, ci saranno, lo vedremo. Però è anche vero che se noi andiamo ad analizzarla, non è una stagione totalmente da buttare. Perché noi comunque alla fine finiamo... Dopo dicono che ti ho detto io di dire queste cose, tifosi. Eh, non me l'ha detto, perché poi Mauro in privato lo sa, quando ci becchiamo, ci becchiamo e non siamo sempre d'accordo. Però nello specifico, se adesso uno finisce il momento proprio caldo del post-gara o durante la stagione e ci fermiamo a riflettere, siamo secondi, potevamo rischiare di passare il turno in Champions. E' una Champions che porta due delle nostre quattro avversari in semifinale. Te la riassumo la nostra Champions, purtroppo giochi la prima con il Newcastle dopo una cinquina raggelante contro l'Inter. E questo sicuramente incide, perché eravamo tutti frastornati al calcio d'inizio di Milan-Newcastle. A Dortmund 0-0 hai fatto una grande partita, ci sta. No, ci sta anche che forse potevamo vincere l'altro. A Parigi hai pagato pegno in una grande serata di Mbappé. Però poi l'hai recuperata alla grande squadra. Poi però la recuperi col Paris Saint-Germain e vai in campo col Borussia Dortmund con Mbappé non in condizione per la febbre, Leao fuori infortunato e Malik Chao che si infortuna nel momento in cui la partita è 1-1 e tu potresti ancora riprenderla. Io ti dico che per me, Juventus e Borussia, le vedo le due partite spartiacque della stagione. Juventus è andata, parlo, e Borussia. Perché noi se riusciamo a battere il Borussia e passiamo il turno è tutto un altro modo di vedere la stagione. Avremmo avuto un entusiasmo totalmente diverso. Mentre dopo la partita col Borussia, io ricordo su Twitter, si è scatenato l'impossibile. Assolutamente. Si è scatenato l'impossibile e quello ha inciso tantissimo. Poi Coppa Italia un po' sciocchi noi perché andiamo in vantaggio, ce l'abbiamo in controllo, prendiamo gol subito. La Coppa Italia non è nostra. È vero, però qualche episodio arbitrale, l'uno contro uno del giovane Jimenez in campo per emergenza e infortuni contro Miranchuk. Ed esci dalla Coppa Italia, avremmo potuto esserci noi in finale con la Juventus. Non contesto, però ti ribadisco, per me la Coppa Italia non è una... non ci faccio mai... Qui i tifosi ci contestano e qui c'entrificano. Sì, lo so, ma io ti dico che Berlusconi ha vinto di tutto e in 30 anni ne ha vinta una in Coppa Italia, il che significa che noi mentalmente non siamo mai stati focalizzati su quella Coppa. Non è per noi. Però, va bene, va bene. Allora, caro Leo, grazie, abbiamo provato a ripercorrere tutti i momenti di questa stagione qui dall'hotel San Giovanni Terme di Ischia Porto, nel centro di Ischia e quindi, insomma, un giorno o l'altro vi capiterà di farci visita. Ciao Leo, grazie, ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti.